Quarto pareggio in sei partite per il Pineto, costretto a rincorrere il Pontedera nel match del Mariani Pavone. Decidono un gol in avvio di Talenga e una perla su punizione di Bruzzaniti, partita comunque con diverse occasioni per portarsi a casa i tre punti. Avvio deciso del Pontedera che va subito a segno, complice una difesa troppo molle su Italenga che timbra il quinto centro stagionale. Il Pineto si scuote e prova subito a pareggiarla. In almeno tre occasioni i ragazzi di Cudinici vanno vicino, prima con Bruzzaniti, poi con un rigore movimento sprecato da Del Sole e infine con Borsoi che cestina una ghiotta opportunità. I toscani, nonostante gli scossoni tengono e chiudono la prima frazione in vantaggio. Nella ripresa l'enorme chance di poter raddoppiare sempre con Nitaleng che su assist al bacio di Corona si fa ipnotizzare da tonti. Poco dopo è il turno del Pineto che con il neo entrato gambale va a un soffio dal gol del pareggio. La rete però è nell'aria e arriva su calcio di punizione. Piazzato da distanza favorevole per il piede di Bruzzaniti che trova una parabola imprendibile per l'estremo ospite che non può far altro che raccogliere la palla in fondo al sacco. Le emozioni tuttavia non sono finite. Italeng non trova per poco la doppietta e ancora uno strepitoso tonti a impedire all'attaccante Scuola Atalanta di esultare. Là dietro però i Granata rischiano di nuovo con Gambale che da sinistra semina il panico e mette fuori area per Baggi che con un gran destro centra in pieno la traversa. In pieno recupero i toscani vicini al colpaccio con Perretta che però non trova la porta. Domenica prossima Pineto in trasferta contro il fanalino di coda Legnago.